violento? Sì, lui dopo qualche giorno che non dormiva diventava violento ovviamente. Cioè quello che ricordo, poi non so se la realtà... Tu eri stata due o tre giorni insieme lui in quella casa. Sì, anche di più. Anche di più. Ecco, ma quando è successo il fatto che tu hai, attraverso dei flashback, recuperato nella tua mente? Hai la sensazione che la droga vi aveva portato a non capire più niente ed eri obbligata a star lì? Sì, la droga mi aveva portato a non capire più niente e io sentivo di star lì. Poi dopo un po' ho capito il pericolo e sono scappata, ma comunque all'inizio volevo anche calmarlo. Cioè volevo cercare di calmare... La situazione? Sì. Ma era violento come? Urlava, esagerava? Sì, urlava. Pretendeva altro? Sì. L'altra volta mi hai detto... Siamo capiti? Sì, l'altra volta mi hai detto... Pretendeva altro. Che tu... Sì, pretendeva un rapporto più forte. Ecco, non voglio... Mi sembra che si intuisca, non voglio entrare... Non voglio entrare in questa cosa, mi sembra evidente. E basta con queste... Ecco, però... Ma no, ce l'ho detto perché sennò anche qui continuano a dire... Sì, sì.